benvenuti alla prima edizione del nostro tg speciale eventi che andrà in onda per tutto il mese di agosto in cui vi parleremo dei principali appuntamenti in corso nel nostro comprensorio nel corso della serata di lunedì il quartiere ebraico di fondi ha risuonato dei versi dell'epos lo splendido cortile della giudea ha fatto da cornice alla suggestiva presentazione del libro di simone di biasio partita penelope un monologo in versi pronunciato da odisseo abbandonato dalla sua sposa una presentazione che ha visto realizzato un quadro vivente realizzato dall'artista stefania romagna i cui dipinti hanno impreziosito le mura del cortile ad interpretare i versi del libro l'attore giuseppe pestillo nei panni di un odisseo disperato e abbandonato accompagnato dal suono del violino di angela alla ad intervenire oltre all'autore di partita simone di biasio anche ilaria monacelli giornalista di canale 7 franco sepe professore di lingua e cultura italiana presso l'università di postdam lo scorso 29 luglio ai piedi della splendida torre etruglia a sperlonga salvatore coccoluto e antonio di trento hanno emozionato un copioso pubblico raccontando pino daniele e la sua arte accompagnato dal sound magico del kizas acoustic band che ha ripercorso musicalmente la carriera di pino daniele proponendoci alcuni dei suoi brani più famosi salvatore coccoluto dialogando con il giornalista antonio di trento ha presentato il suo libro pino daniele una storia di blues libertà e sentimento edizioni in primatur una serata ricca di emozioni tra sorrisi e malinconia con la rievocazione di alcuni momenti dell'esistenza del cantautore parte europeo che hanno segnato la nascita dei suoi brani più belli destinati a una fama immortale si è conclusa la seconda edizione del gonzaga festival suoni e visioni che venerdì 29 sabato 30 luglio ha illuminato l'incantevole terrazza del castello baronale di fondi un festival all'insegna dell'arte e della buona musica al quale i ragazzi dell'associazione chirone ispiratosi ispirati al dalla figura di giulia gonzaga hanno attribuito il tema della femminilità non a caso il festival è stato aperto dalla presentazione dell'associazione nadir donne contro la violenza durante la quale è stato trasmesso il suggestivo cortometraggio laura realizzato dai ragazzi di canale 7 con la partecipazione del centro nadir nel corso delle due serate si sono alternati gruppi musicali che hanno aglietato la serata con svariati generi musicali l'evento che ha riscosso un notevole successo è stato patrocinato dal comune di fondi grande successo per la sagra dell'antica trebbiatura e mietitura del pantano di lenola tre giorni di festa dal 29 al 30 luglio scorsi che hanno coinvolto tutti in un viaggio nelle tradizioni locali a dare il via ai festeggiamenti una suggestiva sfilata di carri e mezzi d'epoca tra degustazioni e danze la sagra ha visto grande partecipazione del pubblico incuriosito da dimostrazioni pratiche della preparazione di prodotti tipici l'evento è stato patrocinato da regione lazio provincia di latina comune di lenola 22esima comunità montana e banca popolare di fondi lo spettacolo teatrale non c'è pace tra gli ulivi liberamente ispirato al capolavoro del neorealismo e rispettoso dell'ambientazione della trama del film diretto da giuseppe de santis andrà in scena da giovedì 4 a domenica 7 agosto alle ore 21 nel chiostro di san domenico a fondi sarà diretto da giovanni pannozzo che indosserà anche i panni del personaggio principale francesco dominici nel film interpretato da raffo vallone a cui la messa in scena è dedicata nel centenario della nascita la prevendita dei biglietti aperta presso la libreria il seme in corso appio claudio a fondi è tutto pronto per la settima edizione di san vito in festa kermes dedicata alle antiche tradizioni locali che si terrà dal 5 al 7 agosto presso la sughereta di monte san biaggio obiettivo della manifestazione promuovere la sughereta l'unica d'italia con alberi ad alto fusto ma minacciata da un fungo patogeno che rischia di deturpare un patrimonio senza eguali preservare le tradizioni dunque significa anche tutelare i beni naturali attorno ai quali nascono e si sviluppano le usanze popolari è in questo contesto che si inserisce il concorso di disegno dedicato ai più piccoli il mio bosco fatato sarà possibile iscriversi alla competizione a cura della ludoteca little town di terracina a partire dalle 10 di domenica a 7 agosto a partire dalle 17 30 di domenica gli animatori della wake up proporranno una serie di divertentissime attività che vedranno impegnati i monticellani in una vincente ed energetica sfida alle 20 e 30 si procederà con la premiazione dei vincitori che riceveranno targhe coppe e specialità gastronomiche a seguire ci sarà il concerto le mie passioni la mia terra dell'attrice e cantante pietra monte corvino che a partire dalle ore 22 proporrà l'interpretazione di brani originali e di grandi classici eseguiti in una fusion creativa tra lo stile tradizionale e le nuove sonorità mediterranee il diciottesimo festival internazionale di lenola inventa un film è organizzato dall'associazione culturale cinema e società di lenola presieduta da ermete labbadia con il sostegno della fuis federazione unitaria italiana scrittori della 22esima comunità montana della banca popolare di fondi e con le donazioni di persone sia nel reale sia online attraverso la piattaforma inventa un film punto it le proiezioni si svolgeranno dal 9 al 13 agosto prevalentemente all'anfiteatro comunale di lenola verranno organizzati inoltre sempre dal 9 al 13 in collaborazione con importanti enti cinque eventi di livello il programma con tutte le proiezioni del diciottesimo festival inventa un film lenola è da oggi disponibile sul sito inventa un film punto it parliamo ora degli eventi della fine settimana a bazzano beach sabato dalle 12 ci sarà la festa chiamata spiaggia italiana il dj flavio ferdinandi seleccionerà la migliore musica made in italy negli ultimi 40 anni mentre si mangia oppure sulla spiaggia si potranno cantare grandi successi e tormentoni estivi per poi godersi il tramonto con un drink sabato notte il valle corsari di sperlonga presenta l'evento tutta nata storia con il dj fabio guietta benny de santis la voce di flavio ferdinandi e le percussioni di mario ciacciarella domenica sempre a bazzano beach a sperlonga sarà ospite il dj flavio romaniello del duo del duo harley and muscol l'evento si chiama session sunday ed è la festa che ogni domenica caratterizza le feste in spiaggia domenica sera a fondi presso l'anfiteatro dei gasperi dalle 21 ci sarà la finale della seconda edizione di you chef il concorso culinario per dilettanti presentato da gigi e ros con la partecipazione di pasquale palma tutti da made in sud e adesso in breve vediamo gli altri eventi in programma nei prossimi giorni il 5 agosto presso il castello caetani dalle ore 8 gran galà delle arti e della solidarietà organizzato dall'associazione senza barriere il 5 il 6 nel centro storico verrà riproposta la manifestazione fondi città di gusto dal 5 al 7 in località querce alle ore 19 si terrà la quarta edizione della sagra del pomodoro organizzata dal comitato querce il 6 e il 7 agosto nella contrada madonna degli angeli nel piazzale adiacente la discoteca sofia alle ore 21 e 30 si svolgerà la festa contrada madonna degli angeli proposta dall'assessorato madonna degli angeli mentre dal 6 all'11 agosto presso piazza benedettine alle ore 21 al via la ventiduesima edizione di estate all'olmo dell'associazione confronto grande finale della seconda edizione di you chef come anticipato domenica 7 agosto presso piazza dei gasperi alle ore 20 e 30 vivere e fondi torneo di burraco sarà proposto sempre il 7 agosto in piazza municipio alle ore 20 e 30 dall'associazione time out continua la manifestazione castellano per una notte il 10 agosto sulla terrazza del castello caetani dalle 20 e 30 l'associazione la fabbrica delle idee propone conad in festa summer day sempre il 10 agosto alle ore 21 e concludiamo con la rappresentazione teatrale fratelli in scena il 10 e l'11 agosto presso il chiostro di san domenico alle ore 21 grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete e 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 Autore dei sovrapposti